Ma guarda, sai, quando poi mi parli di quel tipo di musica che sono i punti differenti per quanto riguardava proprio la poesia, erano, cioè, se vogliamo, ecco, ma dei che ricordi, Andrì, Battisti, Battisti, insomma, anche allora, se lo seguivi, dicevano che ero un pochettino, insomma, leggerino, un po' tutto bellino, così, però poi non erano tutte cose vere, perché poi, ripeto, hanno dato tanto alla musica, ma per esempio, cioè, Dei Rolpi, che poi Dei Rolpi comunque è arrivato dopo, cioè, quel che poi riflettevo molto da vicino, era il discorso legato poi per, cioè, diversi, insomma, a Di Andrì, Di Andrì ho tutti i dischi, tutte le musiche, un po' di tutto, perché poi sai, guarda, vuoi apprezzare la poesia, devi comunque andare su Di Andrì, ecco, cioè, quello è veramente occasione della musica, cioè, è importante a questo punto di vista, perché poi sai, io credo che fondamentalmente, cioè, quando tu vuoi arrivare al cuore delle persone, cioè, la parola, la sua maggiore estricazione con la musica, la musica, insomma, piccola, la parola, la porta al cuore della gente, cioè, poi chiaramente, ripeto, sono tanti tipi di esperienze che abbiamo fatto ognuno di noi, quindi sai, da questo punto di vista è sicuramente un qualche cosa di molto, molto positivo, per la crescita personale, cioè, aver avuto poi la fortuna, insomma, da piccolo, che non so, i fossi come immobili, oppure la donzelletta avviene dalla campagna, sai, quelle di tutte quelle poesie che poi, c'è, da piccoli, abbiamo, abbiamo un attimino, ecco, imparato, osservato, guardato, secondo me, cert'ottica, poi sai, con questi tipi di cantautori che, probabilmente, ma, addirittura di andrei più deviati, erano proprio dei veri e propri poeti, dopo che imparare proprio l'arte di fare musica, di esprimere i concetti attraverso la poesia, loro l'hanno fatto, hanno dato la possibilità, a me, di conoscerla più nello specifico, e poi sai, a piccani, volta per volta, escono di capolavori, sono cose incredibili, guarda, eh, insomma, abbiamo detto tutto, cioè, c'è, proprio delle cose fantasmagoriche, guarda, quindi, meno male che ci sono stati loro, che poi ci hanno dato questa possibilità, è stata una crisi di giorno dopo giorno, e, è importante, ripeto, che, tramite loro, si siano potuti apprezzare la poesia nella solo, nella sua, diciamo, massimale sensazione, ecco.